Cosa ha organizzato l'Oreal per questo contest? Ha organizzato questo spazio espositivo in cui questi ragazzi dai 18 ai 30 anni hanno a disposizione 40 minuti di tempo, un ambasciatore Oreal, una make up artist e un fotografo per realizzare la loro immagine e noi daremo loro il supporto per utilizzare al meglio i prodotti. Questo per garantire in futuro agli acconciatori e fargli scoprire questo mestiere. Quali sono i prodotti che consigliate per valorizzare questo lavoro? Allora, i prodotti che consigliamo sono quelli più indicati per il tipo di lavoro, cioè il capello che ha bisogno di opacità utilizziamo un prodotto che ci toglie lucentezza, mentre l'acconciatura che ha necessità di brillare e di esaltare la lucentezza dei capelli utilizziamo un prodotto lucido. Ogni prodotto ha la sua valenza, quindi ogni acconciatura ha bisogno dei suoi prodotti.